Sì, lo so, il logo della vaglietta è una figata pazzesca. Mi rendo conto però che questo giustifica il fatto che io sembri sempre una donna incinta al nanomese. Eccoci qui ragazzi, benvenuti in una nuova stagione dei Lollingamers, che sarà ricca e piena di nuovi video. Iniziamo con questi nuovi video con un gameplay. Da qui a Natale vedrete 4 episodi di una storia di pirati. Abbiamo deciso di sfruttare il gioco della Graviocreation, dove noi siamo stati un'associazione delle tante che hanno partecipato al playtest. Siccome è un gioco che ci piace, è un gioco che spesso giochiamo e spesso troviamo difficoltà, o almeno secondo me è divertente da vedere, ve lo porteremo come gameplay. Le prime quattro puntate, le prime quattro avventure, i primi quattro episodi. La prima avventura parla di un gruppo di sbandati, di pirati scappati se non sbaglio di prigione, che andranno a rubare una bagnarola e si metteranno in mare. Lo scopo è riuscire a scappare con la marina alle spalle. La ciuma sarà composta da Claudio come capitano, almeno per questa puntata, e Gianluca, una new entry di Rolling Ravers, Luca Caputo che avete visto a Modena e Gaetano, un best dei Rolling. E quindi non aggiungerei altro tranne un... ARK! ARK! Quale ARK? Cominci e non mi presenti. Ah perché ti devo pure presentare? Mi pare ovvio. Gianluca Rolling, Rolling Gianluca. Piacere. Signori, allora che fanno? Allora, uno in vedetta. Luca, uno ripara, uno carica i cannoni, e uno muove la vela. Uno ruota. Uno ruota, muore. Ah no, non puoi muoverti perché sta a zero. Uno muove la vela, uno va su timoni, uno ripara, uno... Sì, vedetta, ripara, carica. No, vedetta, vela, timoni e ripara. Capitano, prima di partire devi fare ARK! ARK! Aspetta, parto? Parto. Parto! Avanti! Avanti! Vabbè, lui è quello panascone, non capisci. Parto, parto! Avanti, io vado solo alla vela. Uno, no, no, non la cosa più da... Uno. Io vado. Due, io ti muoro. Uno. Io li paro. Io li paro. Adesso, lo ha detto anche lui. Certo. Cosa scopro? Eh, scopri qua. Cannone. Io mi muoco verso... Ah, non mi scopo, siamo qua al doppio. Non possiamo più o meno per il grande scolo. Io li paro un cannone. Lo scopri qua, suè. Io li paro un cannone. questo magari vuole più si riparamelo, io la pena si muove la vela mi sposto verso qua allora a sto punto no scusa scopri questa questa poi mi ci giro io giro io giro io e io riparo cannone io muovo la vela io mi sposto ok io sparo scogli ottima idea ma non avevo visto nulla non avevo visto nulla perché non mi hai fatto male ma io ho detto io riparo io riparo tu ci ci hai quando capiamo siamo letta tu che lingua è? capitano che lingua è? capitano capitano dai un po il mare le fa una brutta cioè a me al mare le fa un fattiglio come è diventato capitano? come è diventato capitano? come è diventato capitano? capitano come è diventato capitano? dove me ne vado? io scopro questa io ricarico scogli 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 via via io riparo io sto caricando la merda oh sono preso la bevetta bevetta eccomi che capitano arzino quanto ti è? i due posso ruotare? si parla no no che cazzo di capitano arzino? ok anche adesso qualcuno mi ha scoperto qua stiamo avanti e li attacco subito io arrivo io lo tolgo vado a riparare così casco il cannone tra l'oltre ricaricare non vedo il cannone quindi devi aspettare vero purtroppo per la vedezza vai carica ah ti hai visto la guardia blu carico dove vado mi muovo? ah no aumento questa aumento la vela si vedezza tre vela vela dai dai allora io lo sparo lato sul timone me l'hai sposto dentro qua allora prima di alzare la seconda volta la seconda vela devi far spostare me se non mi devo spostare mi devo gitar 3 vabbè Età se riuscite a portare a me di questa missione mi devi cantare la canzone di Inbrook verde 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 alza la vela alza la vela sparando lo fanno io ho 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 l'uomo ma la vera è in zucco io vado ancora sulla vela perchè lo scatto questo no io muovo chi di voi è il gay cioè chi è saggio gay e tu, saggio è tutto, meno che gay aspetta ci vorrebbe un sottotitolo? non so sparo ok, la vela, la vela l'escoratore, perchè l'hai messo sulla vela? l'escoratore io devo passare uno ho tutte le assanotte, tutte le 15 ruota di uno io ruota di uno no aspetta, ruota di uno, ruota di uno si ma scopri ruota di uno dai scopri ora nebbia io vado a spagare ora io muovo no vedete che è verda io 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 abbassa abbassa io muovo io muovo ok io sparo io sparo vai scopri tu non posso fino a quando non finisce muoviti muoviti dai no abbiamo un colpo soto abbiamo il turno potevo uno aspetta devo girare no no non ce li so vai vai allora allora è meglio prendiamo un colpo andiamo un danno solo no prendiamo un attacco però lui già stai però io ricarico due e io muovo vabbè i testaggi l'avete superati tutti e due allora puoi cantare vai 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 ti seguirai perchè si è rotolato questa cazzo di nave perchè ha la mia azione No, non la devi ruotare più perché colui deve... Te l'hai tolto il danno? No, devi togliere il danno Lui fa danno Che cos'è? Ok, ci ha sparato Manni, c'è nel canestro Scatano tutte le altre passaggi 3, 2... 1... Viva Vedete passate quella commenta ho la pelle ho la pelle tutta segna sono già morto dove scopri? no, giriamo di qua decidi Capitano Capitano Hano, affondiamo boom scopro questa? vado a ricaricare? no, dove vado? vado a sparare vado 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 e vado 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 in giro scogliono ku Sì, le pallotte. Cosa farete? Le pallotte le hai? Vai scopri quella carta! Io muuuu! Io giro! Apetta! Io guardo! Non girare! Non girare! Guarda qui! Buuuu! Buuuu! Ora giro! Adesso gira! E dove vado? Sulla vela direi! Io anche io sulla vela! Non so perché! Ma che scopra! Allora no! Ah no, aspetta! Allora io vado sul tifone! Io scopra questa! Ah, io ovviamente ho sparato e devo togliere il corpo! Dopo ti cerchiare! E dopo hai fatto! Capitano! Capitano! Sì! Capitano! Fortunatamente sono l'unico che si ricorda! In ogni caso comunque! Né via via! Ehi! Nooo! Si muore! Io lo vado a sparare così quando vuoi! No ma sopra! Eh non ci sono stato adesso io! Allora vado io sopra! E allora vai tu! Io sparo! Allora io vero! Allora io vero! Io vado a sparare! Suuuu! Qui di otto uno! Vuoto di uno di due! Bravo! E questo è coraggioso! Ricarico! Io so... Eh no! Scopermi il là eh! Allora io vado sulla vela perché... Capitano, testo, sinistra! Sinistra! Tanna uno è un passaggio da due! E l'altro è! Scopri 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 scopri! Scopri scopri scopri! Scopri scopri! No! Sulla scoglie! Via via via! E io muo che fai? Niente! Bravo! Bravo lui! Sendo me! Non lo posso tenere? Non lo posso tenere? Questo un me ne vado! Vai scopri! Vai scopri! No! Dì! E però ci poteva serviri perché questo è un passaggio da più! E da due! Un passaggio da uno! Vado a due! e io ricarico e io ho finito e io... non ho sparato e a che riparo? non c'è niente avete finito la missione con l'hug anticipo ok, faccio le due GERALT 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 guarda come si fa è un pisarmon è un pisarmon ahahahahah sono lei di la dirba capitano una parola per descrivere questa curva UHHHHHHHHHHHHH UHHHHH GERALT 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 Grazie per la visione!